E di due feriti non gravi e di cinque persone coinvolte il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina dopo le 7 nei pressi di Porta Napoli all'incrocio fra Viale Mazzini e Via Trieste. Al vicino ospedale dell'Annunziata sono finiti due fratelli, un ragazzo e una ragazza, entrambi di Sulmona, che viaggiavano a bordo di una Nissan grigia diretta in Via Trieste. Da tutt'altra parte proveniva il furgone dal centro storico, per essere precisi, pronto per imboccare Viale Mazzini. A bordo del mezzo pesante viaggiavano tre operai. Dall'impatto fortunatamente due giovani non hanno riportato gravi conseguenze. Il ragazzo di 27 anni ha causato problemi alla schiena, la sorella invece dolori alla testa. Nessuna conseguenza per gli occupanti del furgone, un episodio che si è verificato quasi in contemporanea con la rapina di Viale Costanza. Una mattinata frenetica quindi anche per le sede dell'ordine, mentre per quanto riguarda l'incidente di Porta Napoli comincia la conta dei danni per accertare eventuali responsabilità.